Al via il progetto regionale Zero Code per la prenotazione dei prelievi ematici online attraverso un portale internet interamente dedicato. Nelle immagini vedete la presentazione della novità all'interno del presidio sanitario d'annunzio dell'Asla Toscana Centro a Firenze. La prenotazione via web è semplice, basta inserire il codice fiscale, il numero di ricette elettronica, scegliere il presidio preferito, selezionare data e ora del prelievo e attendere la conferma via sms sul proprio telefono cellulare. con possibilità di stampare il promemoria. Abbiamo deciso di sperimentarlo qua a Firenze, in questo distretto, in questa casa della salute e quindi adesso vedremo come va, naturalmente con tutta l'umiltà di che sperimenta un servizio nuovo, ma crediamo che questo possa essere davvero una cosa straordinariamente innovativa che semplifica la vita alle persone e anche alle nostre strutture. Nell'occasione è stata presentata anche la self-accettazione, attivata in via sperimentale nel solo presidio d'annunzio. Vuol dire che se la ricetta dematerializzata non contiene esami particolari, vi faccio un esempio, le curve glicemiche per le donne incinta oppure altri approfondimenti particolari tipo il DNA che si fa ad esempio solo a Careggi, la ricetta normale e nel 90% dei casi è così, può essere prenotata direttamente dentro il laboratorio analisi. Questo vuol dire che quando si arriva qui col biglietto si viene chiamati direttamente al box prelievi.